Ok, buono ragazzi spero di essere tornato live adesso senza troppi problemi, avevo interrotto io in realtà prima la stream semplicemente perché evidentemente andava a scatti e adesso ditemi se magari va tutto bene, ok tanto io mi metto a parlare per qualche minuto, perfetto perfetto, dovrebbe essersi risolto perché in realtà internet va benissimo, non ha problemi e quindi bella, bella 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 Buono ragazzi allora ricomincio da capo, comunque semplicemente un piacere di vedervi tutti, mi siete mancati, dicevo che fondamentalmente in realtà la situazione di mercato è rimasta abbastanza simile a quella precedente, cioè a quando ci eravamo lasciati e quello che andremo a vedere oggi più che altro è fare anche un po' un recap di alcune notizie che non abbiamo visto insieme per forza di cose più alcune notizie che invece sono proprio fresche, diciamo non di oggi magari ma proprio di questi giorni qui e le andiamo a discutere un po' insieme e altra cosa importante che in realtà vorrei andare a vedere insieme a voi è un protocollo che è un protocollo nuovo, una nuova blockchain che sta per nascere in questo momento è in una fase tra virgolette sperimentale, conclusiva della sua testnet, nel particolare è in fase di testnet incentivata quindi poi all'inglese no incentivize testnet che è 6 network ma lo andiamo a vedere verso la fine quindi ci dedichiamo un po' di spazio dopo molto interessante, vi anticipo che poi è una blockchain basata su Cosmos SDK in stile QGira un po' di analogie le ha, comunque poi andremo a vedere anche nel dettaglio come funziona qui ho aperto CoinGecko semplicemente per andare a vedere un po' le condizioni di mercato attuali ma come al solito sapete che nelle nostre live nelle mie live non è che poi andiamo a fare chissà quale analisi tecnica e se vi ricordate ci eravamo lasciati con Bitcoin che più o meno era tra i 21, 22, 23 mila dollari quindi così siamo anche adesso c'è stato un po' un'altalena, era salito nella metà di agosto comunque era riuscito ad andare anche oltre i 23, 24 mila anche ITER credo avesse toccato forse i 2 mila dollari un giorno se non ricordo male e poi insomma adesso nell'ultima periodo, nell'ultima parte di agosto sono un po' scese ma un po' come tutto quindi non solo il mondo crypto detto ciò partiamo subito con la notizia che è fresca fresca di oggi, me la sono aperta qui che è riguardante il tema certificazioni per la sicurezza e nel caso, aspettate che ve la metto più ok, così è meglio nel particolare Crypto.com ha completato questo tipo di SOC2, tipo 2 compliance che è una certificazione di sicurezza ulteriore e non che questo cambi molto rispetto a prima se vi ricordate Crypto.com aveva già ottenuto una certificazione di sicurezza che adesso a memoria non ricordo ma è scritta qui queste qui, ISO IEC 27001 2.2013 che poi personalmente neanche conosco con estremo dettaglio fondamentalmente si tratta scusate fondamentalmente si tratta comunque di certificazione di audit da parte di aziende di terze parti che vanno a dare su aziende, in questo caso Crypto.com se non vado a sbagliare, cioè se non vado a random ma dovrebbe anche esserci scritto questo audit, quindi questa certificazione gli è la data dello IT dov'è che è scritta? no, non lo trovo ma ricordo che c'era Dello IT che aveva dato questo tipo di certificazione qui non è importante eccola qui, perfetto l'ho trovata quindi vedete c'è stato fatto questo audit da parte di Dello IT che poi ha rilasciato questo certificato di sicurezza ah, Deloitte Deloitte o Deloitte non so come si dica in realtà che poi è una tipo IT leviosa bentornato anche Ipsilion Farmer mitico e ad ogni modo non è una notizia che secondo me sia fondamentale non aggiunge molto se non il fatto che questi exchange ormai che diventeranno leader incominciano a prendersi anche tutte queste certificazioni un pochino più standard per dare magari maggiore sicurezza all'utente che quindi si fida un pochino di più dei differenti exchange anzi non è scontato che magari prima o poi una cosa analoga arrivi anche per gli altri exchange quindi che ne so Binance Fetix questi qua insomma Bybit ok, i più importanti OKEx eccetera eccetera invece partendo a vedere un po' di progetti più interessanti in primo luogo vi dicevo di giusto vi ho accennato un attimo Cugira prima anche perché poi vi ho vi avevo scritto questo tweet stamattina e mi interessava un po' parlarne con voi perché la notizia è stata data mi pare due settimane fa quindi proprio quando qualche giorno dopo forse che ci siamo diciamo salutati per la pausa da mare che cosa hanno annunciato? hanno annunciato USK che è la loro nuova stable coin non l'hanno ancora lanciata l'hanno semplicemente annunciata sono partiti a fare gli sviluppi in fase di testnet quindi probabilmente USK è già attiva in testnet ma non credo sia una testnet incentivata quindi io non ho avuto ancora modo di sperimentarle comunque non ho visto neanche da parte del del profilo twitter di Cugira non ho visto tanti tweet a riguardo della loro testnet timeline sulla mainnet non ne hanno dati quindi non si sa in realtà esattamente quando arriverà sulla mainnet questa stable coin però quello che si sa sono alcuni punti che hanno citato fondamentalmente in un articolo medium che non ho linkato in realtà in questo tweet ma è piuttosto interessante quindi magari dopo per chi è interessato lo posso andare a riprendere ad ogni modo li avevo sintetizzati in questo tweet e li andiamo a rivedere assieme così li commentiamo anche un po' live dal vivo inizialmente avevo fatto un po' un recap di Cugira quindi già che ci sono lo facciamo un po' per tutti così creiamo l'ambience l'ambient quindi Cugira se vi ricordate nasce come protocollo per gestire le liquidazioni in maniera tra virgolette distribuita sulla blockchain terra e quindi gestiva le liquidazioni di Anchor Protocol se vi ricordate cosa si poteva fare su Anchor o meglio su Cugira su terra si poteva depositare UST su Cugira e piazzare quelle che venivano chiamate i bid sulle liquidazioni in sconto per andare a comprare Luna o per andare a comprare tutti i vari token che potevano essere messi a collaterale su Anchor Protocol e si andavano a comprare in sconto perché quando scattavano le liquidazioni si otteneva sempre un certo sconto che andava da un minimo del 5% se non sbaglio fino a un massimo che se non ricordo male era del 30% ma fondamentalmente al 30% di sconto non ci arrivava quasi mai poi è avvenuto il famosissimo Terra Crash quindi tutto quell'ecosistema è scomparso perché è vero che è rinato sotto forma di Terra 2 però non ha avuto più quella trazione e il team di Cugira anziché fare come buona parte dei protocolli che si è proprio trasferito su Terra 2.0 invece ha deciso di creare la sua blockchain proprietaria che ha chiamato Cugira Chain se non sbaglio insomma non c'è un vero nome dove la moneta di riferimento è Cugi quindi non ci sono più altre monete per pagare le gas fee ma si pagano proprio in Cugi e ha utilizzato un modello che avevamo già un po' visto in qualche live ma è abbastanza unico nel settore perché ha deciso di creare sin da subito tutti i Cugi disponibili quindi sono già stati mintati tutti se non sbaglio ecco c'è scritto qui sono 122 milioni e non c'è più inflazione quindi l'inflazione è allo 0% lo si intravede un po' anche dalla foto ma lo apro quindi l'inflazione vedete è 0% questo non vuol dire che c'è diluizione dopo lo andiamo a vedere magari nel dettaglio questo aspetto della diluzione di Cugi perché per chiarirlo meglio Cugi ha proprio pubblicato un tweet oggi su questo perché il fatto che l'inflazione sia 0% non vuol dire che comunque non ci sia pressione di vendita perché qualcuno vende il token Cugi e questo già vi lo anticipo è legato comunque al fatto che il team ha un'allocazione investing e al fatto che c'è anche l'allocazione per il marketing e per qualche altra spesa insomma quindi riassumendo tutte le spese che il team va a dover incontrare le scarica tramite la sua quota di Cugi questo è però per il resto non c'è inflazione quindi non c'è stampa di nuovi Cugi non c'è farming di Cugi ok l'unico l'unica revenue quindi quella PR al 2.75% che vedete lì in alto deriva unicamente da revenue reali che l'intera blockchain genera queste revenue da dove derivano attualmente da due luoghi il primo sono le gas fee quindi quando noi andiamo a effettuare una transazione su Cugira paghiamo le gas fee queste vanno ai validatori i validatori trattengono una percentuale poi distribuiscono anche le reward ai loro scusate ai loro tra virgolette nominators senza scendere nei dettagli comunque ai loro a coloro che hanno delegato ecco a coloro che hanno delegato i Cugi ai suddetti validatori e invece la seconda parte delle revenue deriva proprio dalle fee dell'exchange infatti punta diciamo di diamante di Cugira è fin che vi faccio anche vedere se vi ricordate lo avevamo visto proprio una delle ultime volte quindi dove è fin eccolo qui quindi si presenta come un exchange decentralizzato basato sul basato sul modello order book quindi per intenderci il classico modello che vanno a utilizzare tutti gli exchange centralizzati quindi dove non c'è una pool di liquidità basata sul modello invece di automated market maker come uniswap come curve eccetera eccetera semplicemente ci sono utenti che fanno bid di vendita utenti che fanno bid di acquisto e poi c'è un match engine quindi c'è un motore che va a fare matching degli ordini che effettivamente matchano per prezzo e per quantità e ovviamente ci sono delle commissioni come in tutti gli exchange centralizzati queste commissioni a chi vanno vanno agli stakers ok quindi due fonti di revenue rissumendo exchange più più gas fee della pagamento delle gas fee vi dicevo per ora perché chiaramente Kujira ha in mente diversi prodotti per la sua blockchain e Fin è solamente uno di questi probabilmente il prodotto di punta almeno in questo momento il prodotto di punta ma senza dubbio non è l'unico il secondo che stanno per lanciare e soprattutto che avrà un senso con l'arrivo di USK e da qui magari torno anche un attimo sul mio post è Orca Orca se vi ricordate era proprio quel prodotto di Kujira che gestiva le liquidazioni su Anchor Protocol e loro andranno a creare Orca per gestire le liquidazioni di USK in realtà non solo perché con Orca loro vorrebbero gestire le liquidazioni di un qualunque protocollo money market che appunto deve andare a gestire delle liquidazioni nel momento in cui le posizioni non sono più sovracollateralizzate o sottocollateralizzate ma quindi capite bene che anche quello andrà a dare revenue agli stakers perché se non vado errato c'è un 1% di liquidation penalty su USK e quel 1% di liquidation penalty andrà proprio agli stakers quindi man mano che loro aggiungono dei prodotti si aggiungeranno revenue streams quindi si aggiungeranno metodi e modalità per cui chi mette in staking i propri kuji riesce a guadagnare reward reali questo secondo me è interessante il che non vuol dire che il token va per forza su cioè token only up non è un mantra però a differenza di tutte magari quelle chain che invece hanno un'inflazione molto alta sicuramente è un qualcosa di insolito o comunque di interessante da studiare tenete conto che ovviamente il tutto ha una controindicazione che era valida soprattutto all'inizio ma lo è ancora adesso cioè che il fatto che non ci sia inflazione dei kuji significa che i validatori inizialmente operano in perdita perché? perché per operare un nodo validatore comunque bisogna sostenere dei costi costi che appunto sono per l'hardware necessario o per le macchine virtuali se si utilizzano macchine virtuali o per il cloud se si utilizza il cloud comunque va pagato un abbonamento e siccome all'inizio non so se ve lo ricordate ma a inizio agosto la PR dello staking era tipo 0.2% ecco con quel reward talmente basse i validatori operavano in perdita quindi c'è da bilanciare questa cosa è come se fosse un po' una start up quindi l'inizio è in perdita per i validatori che stanno tra virgolette scommettendo sul futuro dell'ecosistema ok? questa è la loro scommessa per quanto riguarda WSK perché giustamente mi avete chiesto che cos'è non l'ho ancora finito di dire dunque che cos'è quindi WSK? è una stablecoin a tutti gli effetti nello stile di DAI quindi maker DAO sovracollateralizzata e non algoritmica quindi è differente da WST è differente da USDD o differente da Frax e inizialmente l'unico collaterale però disponibile sarà Atom quindi la moneta del Cosmos Hub e subito a seguire KUJI che è invece la loro moneta ora ci sono poi avevo aggiunto sei motivi che alcuni sono tra virgolette più importanti di altri tipo i primi due sono secondo me importanti in quanto offrono un quadro del team cioè il primo punto che cosa dice il team di KUJI vanta dell'esperienza accumulata su terra con il loro protocollo di liquidazioni ORCA questo è vero perché loro ORCA l'avevano già creato per Anchor Protocol lo dovranno semplicemente applicare alla loro stablecoin USK quindi quale sarà il senso di ORCA applicata a USK fondamentalmente uno andrà a fare delle bid con USK e si prende in sconto gli Atom o si prende in sconto i KUJI che fungono da collaterale quindi questo è anche molto interessante in più secondo punto sono consapevoli del caso UST e quindi delle conseguenze che può avere un modello non sostenibile nel lungo periodo e quindi KUJI sta proprio cercando di applicare un modello che si autoalimenti tramite revenue reali questo secondo me è anche una delle loro grandi distinzioni che poi appunto ha portato alla loro scelta di per esempio non avere inflazione che abbiamo visto prima poi terzo punto utilizzo di un sistema testato nel senso che alla fine USK non è una stablecoin rivoluzionaria è una classica stablecoin sovracollateralizzata da un ulteriore caso d'uso a Atom e ovviamente anche a KUJI subito dopo e vabbè il quinto punto il codice è scritto in Rust ma questo semplicemente perché utilizza Cosmos SDK e quindi deve utilizzare Cosm Wasm e in più sesto punto USK verrebbe integrata in Orca un po' a fare il passo con il punto uno che diceva che a loro diciamo KUJIRA vantaggia dell'esperienza di Orca che dovranno solamente applicare poi sulla loro stablecoin quindi secondo me è interessante poi come al solito il loro obiettivo dovrà essere quello di conferire un use case reale uno use case reale è questa stablecoin quindi cosa vuol dire vuol dire che oggettivamente USK dovrà essere utilizzata per fare qualcosa io posso immaginare che loro sicuramente la andranno a mettere magari come stablecoin di riferimento sul loro exchange fin magari andranno a stringere partnership con altri protocolli che decideranno di utilizzarla insomma come al solito creare una stablecoin per un protocollo è un qualcosa di comodo perché gli permette in primo luogo di conferire un'utilità alle monete che scelgono di utilizzare come collaterale e in secondo luogo perché ovviamente gonfia un po' il tvl se ci pensate perché perché se io ho 100 dollari li metto a collaterale ed emetto 50 dollari di stable sono tra virgolette tutto sotto controllo perché non c'è una posizione sotto collateralizzata però sto aumentando il tvl cioè sto tra virgolette passatemi il termine sto generando 50 dollari che non ci sarebbero di tvl in più quindi è come dire è un loop positivo che ovviamente si ritorce al contrario quando poi tutto cade perché questo tipo di operazione permette di andare in leva per esempio se io deposito atom creo usk e uso usk per comprare altri atom sto andando in leva su atom leva long capite bene che questo fa bene sia ad atom che insomma tutto cugira ma poi si ritorce contro quando se atom dovesse scendere partono le liquidazioni a cascata come al solito detto questo secondo me sarà interessante da seguire e noi lo seguiremo quindi questo senza il loro dubbio tra l'altro ringrazio instrument perché è vero lanceranno anche un loro wallet mobile dove credo introdurranno cose tipo pagamenti in usk non so se con commercianti allora con commercianti ovviamente sarebbe il top non credo che sin da subito riusciranno a stringere chissà quale collaborazione importante però penso che long term se ci riuscissero sarebbe davvero davvero epico si poi ecco leggevo il commento di yfarmer è la moda del momento l'hashtag real yield è vero perché c'è gmx c'è gains e probabilmente sarà la base di tutto è il mondo con il quale ci allontaneremo dalle solite ponzinomics ah è il modo si a riguardo di questo sarebbe anche interessante se non l'hai già fatto parlare però di come umami si è fallito nel suo intento allora ti ringrazio per avermi dato questo spunto e ti dico non ho in realtà approfondito ancora umami perché vi dico la verità in queste due settimane l'ho un po' guardato cioè ho seguito comunque un po' passivamente le notizie ma non ho approfondito quasi nulla quindi ho visto che umami non ha avuto successo se non sbaglio ho visto che uno dei motivi per il quale non ha avuto successo anche che ribilanciava tipo una volta al giorno che quindi era troppo poco e non rendeva effettivamente la loro strategia ben delta neutral però non mi voglio sbilanciare troppo perché veramente non lo so e lo prendo come spunto per magari parlarne domani o giovedì quindi quando l'ho visto un pochino in ottica migliore quindi si sono resi conto che perdevano per colpa del costo di delta e jarre con tracer dao che ora è diventato mycelium fork 1 a 1 di gmx ah ecco vedete in due settimane ragazzi nel mondo cripto cioè questi cambiano nome e cambiano anche protocollo grazie mille comunque mi aggiornerò e andrò a vedere un po' ciò che è successo e ho visto non so se l'avete notato anche voi adesso vi potrei andare a trovare il tweet ma è banale quindi ve lo dico a voce non so se vi ricordate come si chiamava Aperture Finance che era quella piattaforma che voleva automatizzare il delta neutral su mirror protocol e ho visto che hanno pubblicato un tweet che diceva qualcosa come ma cosa ne pensate se creassimo una strategia automatica per una sorta di delta neutral su gmx quindi non so se questo era una sorta di incipit per dare l'illusione che poi effettivamente facciano qualcosa del genere o se era semplicemente invece un tweet un po' balzato per aria detto ciò il problema sì effettivamente l'avevamo anche forse detto in live che la parte più delicata era proprio l'edging su tracerdao perché fondamentalmente era più comodo eggiare su un exchange tradizionale piuttosto che un chain almeno per ora comunque mi andrò a vedere questo mycelium e ne parleremo nei prossimi giorni cosa intendi per commercianti probabilmente si intende proprio non so il panettiere di turno che che accetta tipo di pagare di farsi pagare il pane con usk poi questo è portato al caso estremo però commercianti si intende veramente la qualunque persona che ha un che vende qualcosa o e-commerce sì insomma poi volevo far vedere invece un'altra un'altra cosa sempre riguardo a Kugira ve ne parlavo prima l'ho aperto qui se non sbaglio ecco se vi ricordate prima vi ho detto ok Kugira non ha il token Kugira non ha inflazione questo è vero ma questo non vuol dire che non abbia diluzione diluizione e nel particolare cosa si intende con diluizione cioè si intende qualcuno che continua a vendere token quindi la nostra quota tra le virgolette viene diluita cioè perdiamo percentuale di possesso dell'intera supply perché qualcuno o perché c'è inflazione ma non è il caso o perché ci sono dei vesting ed è il caso invece come c'è come c'è appunto qui in Kugira e la cosa interessante è che tramite questo Eskers che credo sia tipo uno dei fondatori di Kugira hanno pubblicato proprio un qualcosa di estremamente dettagliato e passo subito al grafico che è qui d'accordo noi ci troviamo dove c'è la linea tratteggiata quindi è molto anche chiaro e stiamo seguendo la linea cos'è viola quindi in realtà vedete che l'emissione o meglio la diluizione c'è e continuerà in daily vesting quindi ogni giorno vengono rilasciati dei token che sono già stati mintati quindi non è che vengono mintati semplicemente vengono rilasciati dallo smart contract di vesting e vedete che la curva si flette ancora di più a partire mi pare da novembre di quest'anno perché a novembre di quest'anno se non sbaglio finisce il vesting non mi ricordo se finisce il vesting del team o comunque finisce un certo tipo di vesting e poi dopo 24 mesi finisce il vesting del team e il vesting del marketing comunque non mi ricordo ma c'è scritto qui lo possiamo leggere quindi vedete il team finisce il vesting dopo 24 mesi così come le spese operational e il marketing e poi invece ci sono gli advisors e i private sale che finiranno fra pochi mesi che infatti era questa immagine qui diciamo qui vedete che dove c'è il numero 12 del mese la curva si appiattisce e al 24 si appiattisce completamente quindi quella è la proposta cioè la proposta questa è la tokenomics completa con tanto appunto di reale diluizione del token KUJI che non considera l'inflazione perché l'inflazione appunto non c'è d'accordo? questo secondo me lo hanno fatto perché nei giorni precedenti tipo ieri e oggi notavo che qualcuno si interrogava sul fatto ok bella per KUJI che non ha inflazione però parliamo anche della diluizione parliamo del team che come fa a finanziarsi venderà le sue quote eccetera eccetera e allora hanno deciso di spiegarlo in maniera chiara e secondo me hanno fatto la cosa migliore anche perché alla fine è ovvio che quasi tutti i team vendano le loro allocazioni per tra virgolette per sostenersi quindi il fatto è semplicemente che vengano dati i dati chiari e dettagliati secondo me è semplicemente un bene in modo tale che l'investitore sappia esattamente tutte queste date insomma no? sì il token unlock è un ottimo sito però non ha tutti i token purtroppo ne ha tanti ma non ne ha tutti non li ha tutti dunque poi cambiando un attimo argomento quindi da KUJIRA passiamo a bam 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 volevo farvi vedere qualcosa che non ho seguito praticamente per niente io perché è successo poi ho visto ho visto un po' di domande dopo dopo le vado le vado a leggere ok allora parlando di madmercat e di tutto ciò che loro hanno fatto in questi in queste due settimane in queste tre settimane che io davvero ragazzi ho seguito praticamente zero quindi ho cercato di recuperare negli ultimi giorni in realtà qualcosa avevo letto perché avevo visto le notizie avevo visto che brigiavano anche su Polygon cerchiamo di fare un riassunto ok magari molti di voi in realtà sono anche più aggiornati perché l'avranno magari hanno anche partecipato insomma come al solito ho visto che tipo in una settimana MMF su Polygon è diventato il primo DEX ed è diventata la prima piattaforma per TVL magari andiamo a vederci anche proprio i dati così non li sparo a caso quindi andiamo su Polygon ok no scusate dopo Curve comunque è la seconda 557 milioni di di TVL quindi affatto non poco devo dirvi anche la verità che non me l'aspettavo cioè non pensavo che avrebbe raggiunto così tanta liquidità nel giro di di una settimana e vi volevo però raccontare non tanto quello che è accaduto quindi il launchpad eccetera eccetera perché è già avvenuto e quindi non ha senso parlare del launchpad di come partecipare al launchpad su Polygon eccetera eccetera invece vi volevo leggere questo file che hanno pubblicato proprio oggi questo articolo Medium e che va a descrivere un po' quali sono adesso le loro prossime mosse o comunque quali sono le mosse che intendono fare io vi dico la verità e proprio il bridge su Polygon l'ho completamente balzato un po' perché era sul era in questo periodo qui in cui mi sono un po' staccato da dai social e e un po' perché appunto non riuscendo a seguirlo poi non l'ho approfondito non conviene quasi mai andare su cose che non si approfondisce per bene penso che sia andato da dio questo launchpad hanno fatto overflow mi pare 180 migliori col pre-sale e una richiesta di un milione madonna in un mercato del genere è veramente spaventoso concordo concordo ad ogni modo andiamo a riepilogare quali sono le cose che loro intendono fare proprio nel breve termine d'accordo innanzitutto su Kronos perché hanno bridgeato su Polygon ma non dobbiamo dimenticarci del fatto che su Kronos loro sono nati e non lo stanno abbandonando semplicemente si sono espansi quindi vabbè ok si preparano al bridge della loro stablecoin mausd anche su Polygon ce lo potevamo aspettare ha senso alpha release di MMA che è il loro giochino tra l'altro su questo poi ne andiamo a parlare due minuti giusto dopo perché hanno rilasciato la prima interfaccia del sito dove è possibile vedere il proprio madmercat è possibile equipaggiarlo ai propri madsax ovviamente per poterlo fare è necessario avere l'nft tra virgolette nel wallet questo vuol dire che almeno io l'ho provato come si dice scusate io l'ho provato oggi pomeriggio quindi probabilmente qualche ora dopo che avevano lanciato il sito e non avendo l'nft direttamente nel wallet ma bloccato in qualche smart contract non vedevo il mio nft ok quindi è molto probabile che per vederlo lì nell'arena potergli mettere gli equipaggiamenti eccetera eccetera farlo salire di livello bisogna proprio averlo libero ok questo se non sbaglio l'avevano anche già detto se vi ricordate l'avevamo anche approfondito in qualche live che comunque per poter giocare a questo gioco qui sarà necessario averlo libero nel wallet quindi tu non è che con l'nft puoi fare 5 cose contemporaneamente quindi o scegli di boostarti gli ipr o scegli di giocare o scegli uno o l'altro questo ovviamente lo fanno così tu magari se vuoi farle tutte te ne devi comprare 4 5 6 eccetera eccetera poi va beh il terzo punto dicono semplicemente che vorranno lasciare mma almeno l'intenzione è quella di lasciare mma come esclusiva per chronos e poi vogliono brigiare un po' di altri protocolli tra questi m etf che se vi ricordate è quel loro protocollo che vuole essere una sorta di etf sul loro ecosistema ok quindi andando a prendere m etf un po' come se si prendesse una manciata un basket di tutti i token dell'ecosistema mentre poi su poligon ovviamente hanno molte più idee in questo momento perché è anche la notizia fresca quindi innanzitutto un macello di launchpad faranno qui hanno già più di 10 launchpad pronti quindi veramente tanti poi ho visto che hanno già fatto partire mmo non l'ho ancora visto se non sbaglio comunque penso abbiano utilizzato il modello stile chronos quindi dove uno mette in staking mmo e guadagna matic vrap matic anche in questo caso e mmo resta il loro optimizer dove quindi uno deposita lì la propria liquidità e proprio lp e loro attuano delle strategie per massimizzare lo yield poi si prendono sicuramente una percentuale sul come protoc come come che le chiamano performance fee e tipicamente in base a quello che ti prelevano di performance fee ti distribuiscono nel token mmo faranno qualcosa di analogo e giustamente anzi grazie grazie mille yfarmer perché è vero non hanno non hanno brigiato su poligon hanno proprio forcato infatti tutti i token se non sbaglio sono token differenti non l'ho non l'ho verificato però credo proprio siano due token completamente diversi avranno anche il loro prezzo non sono per nulla collegati quindi c'è un mmf su poligon e un mmf su chronos che hanno due tokenomics che hanno due prezzi anzi verifichiamolo andiamo su dex screener facciamolo immediatamente ok infatti vedete che mmf su poligon vale tipo 0.90 mentre su chronos vale 0.04 quindi capite bene come proprio siano due token completamente differenti gli hanno dato semplicemente il nome uguale perché il brand è lo stesso e infatti ok infatti si non avrebbe avuto senso fare una pre-sale e quindi un ulteriore launchpad se il token fosse stato fosse stato lo stesso perché a quel punto se tu mantieni il token vuol dire che vuol dire che non puoi fare una pre-sale tra l'altro tra l'altro la cosa che loro secondo me come dire hanno fatto ricominciare il gioco perché io non l'ho visto ma immagino che nei primi giorni la PR sarà stato tipo ultra gigantesco perché come avevano fatto su chronos nei primi tempi la stampa era la stampa quindi l'inflazione era altissima e che poi quello che forse ha fatto anche attrarre così tanto capitale perché tutti sapevano che magari che poi tutti sapevano non è vero però magari molti avevano l'idea che potesse accadere qualcosa di analogo soprattutto vedendo leggevo prima dei Psyron Farmer un 180 milioni di overflow su un milione ci si poteva aspettare che tanta gente sarebbe voluta entrare andiamo a vedere ma tra l'altro come sta rendendo il token apriamolo vabbè normale la partenza non so a che prezzo hanno fatto il launchpad comunque qui pare essere partito circa dagli 0,5 ed è ancora sopra il prezzo di launchpad poi non so a che ripeto non so a che prezzo abbiano fatto partire il launchpad se non sbaglio si pagava in USDC quindi comunque era un launchpad piuttosto tranquillo nel senso che io apprezzo di più appunto questi tipi di launchpad dove si può pagare tra virgolette si può partecipare utilizzando stablecoin o comunque se non fosse stato stablecoin magari Polygon Matic cioè la moneta di riferimento della chain e non invece token molto più altalenanti dunque ah ecco 50 centesimi quindi è partito proprio a quel prezzo i primi giorni stampavano 3 milioni al giorno beh ovviamente era auspicabile cioè era prevedibile però la furbata è stata a dire guarda che con i vostri MMF vi servono tra 10 giorni per partecipare alla pre-sale di MMO e vedete che MMO su Cronos ha fatto i numeri quindi sicuramente intelligenti ma secondo me loro cioè furbi sono furbi però mi interesserà capire che cosa vogliono fare poi nella vita a lungo termine perché hanno incominciano ad avere una quantità di token che se io ve li dovessi elencare tutti giuro beh che non li sto seguendo così tanto ma non me li ricordo perché tra tutti i fork che hanno creato su Cronos se si mettono a farli anche su Polygon cioè non non se ne esce veramente più quindi una volta funziona due volte funziona poi non lo so se inflazioni troppo il tuo progetto continuando a creare troppi token diversi non lo so non lo so ecco vi dico la verità eh capite infatti per quello che dicevo che ora magari fanno anche le algo stable pegata MMF su Polygon e poi l'algo stable pegata l'algo stable insomma purtroppo la storia la storia è il fatto che ci dice MMF aveva pompato da paura forse era arrivato a 1.8 come su Alltime I e poi adesso appunto vale 0.04 su Kronos quindi spero che la fine sarà diversa QuickSwap si voleva uccidere mi pare forchino su Dodge Chain esiste Dodge Chain si è stata creata in queste due settimane questa Chain su Cosmos immagino così Dodge Chain me l'ero persa è la BSC del 2020 beh ragazzi ma allora bisogna approfondire Dodge Chain domani parliamo di Dodge Chain non neanche sapevo che esistesse 200% APR su stable e Doge è il gas token ah me la devo assolutamente vedere allora mitico grazie mille della del feedback va bene torniamo a noi e volevo farvi vedere per l'appunto ve lo annunciavo all'inizio che vi volevo proprio un attimo parlare almeno inizialmente a grandi linee di questo nuovo protocollo che è anch'essa una blockchain è anch'essa un layer 1 quindi stiamo parlando sempre del fatto che ha i suoi validatori con la sua sicurezza eccetera eccetera basata sui Cosmos SDK e quindi fa parte del grande ecosistema Cosmos quindi IBC ok tutte le solite cose da cui ormai siamo abituati e qual è la sua peculiarità la sua peculiarità è che ha built in quindi incorporato di default un un motore diciamo per order book e order book quindi un po' come fin di Cugira no cioè un exchange che permette di fare trade in base al fatto che ci sono dei bid di acquisto di vendita che poi vanno a matchare per quanto riguarda delle specifiche un pochino più tecniche al momento esiste appunto ve lo dicevo all'inizio esiste la test rate incentivata quindi si può partecipare a se non sbaglio vortex protocol che adesso vi andrò a fare vedere che è il primo e credo unico protocollo al momento testabile ed è un protocollo di derivati si può fare trading di futures se non sbaglio su atom ma tanto dopo lo apriamo quindi è inutile che continuo a dire forse o magari e la cosa interessante per la quale ve ne parlo è almeno duplice o triplice in primo luogo e lo so che può essere banale ma io comunque vedo sempre anche alla fine dei conti non è vero che è così banale cioè è fatto bene a livello grafico sia il sito di 6 network che quello di vortex dopo ve lo faccio vedere cioè è fatto veramente molto bene mi ricordano le applicazioni su terra io se bisogna dare un merito a tutte quelle applicazioni che erano state costruite su terra ci vedo proprio la loro interfaccia grafica che era super pulita super semplice e anche penso piuttosto comprensibile per un utente qualunque cioè si capiva come funzionavano pensate appunto a Kugira secondo me una delle sue forze era stata la facilità con cui si poteva andare ad usare la loro applicazione e secondo me non è banale già dal sito web si percepisce che c'è della qualità anche proprio a livello di design di come viene strutturato il tutto in più poi che è la cosa importante insomma vi faccio vedere direttamente vortex che è il protocollo su 6 se me lo carica cioè vi faccio vedere che è effettivamente fatto bene ovviamente non me lo carica ok ci siamo ci siamo perfetto allora vedete che qui in alto a sinistra si può andare a scegliere il futures come in questo caso c'è solo Cosmos Hub Atom quindi non è che abbiamo molta scelta si parla di una test incentivata quindi la liquidità e il volume è estremamente basso ma è poco importante questo mi serviva solo per farvi vedere la piattaforma e vedete com'è molto pulita secondo me è molto chiaro anche il suo funzionamento qui a sinistra c'è l'order book qui a destra scusate qui al centro c'è il grafico e qui sulla destra un po' coperto anche dalla mia immagine c'è tutta la parte per andare a inserire il trade che può essere un trade a mercato un trade limite e poi insomma si possono impostare i classici stop loss take profit eccetera eccetera e vi devo dire la verità per quanto riguarda la testnet incentivata non l'ho ancora provata e sono curioso di farlo quindi probabilmente nei prossimi giorni proverò un po' e magari vi darò anche le mie considerazioni su quello che è la testnet per quanto riguarda la documentazione loro stimano addirittura un block time da 0.4 secondi che è addirittura più veloce di Solana per intenderci e infatti puntano tantissimo sulla velocità puntano tanto sulla velocità puntano tanto sulla scalabilità e puntano proprio su questo modello order book loro lo chiamano club cioè centralized limit centralized limit order book che è built in sulla chain quindi tutte queste applicazioni tra queste vortex che sviluppano su 6 potranno andare a utilizzare di default questo tipo di modello order book order book che tra l'altro sfrutta la parallelizzazione delle coppie di trading quindi ogni coppia di trading viene eseguita parallelamente questo vuol dire che se avvengono due trade contemporanei per esempio io ipotizziamo mercato spot adesso non si derivati compro bitcoin pagandolo con USDC e contemporaneamente un'altra persona compra e tiri un pagandolo USDC questi due trade avvengono e vengono eseguiti in maniera parallela ovviamente ricordatevi che l'esecuzione parallela delle transazioni ha una serie di problemi che vanno gestiti tra i quali appunto il fatto che le transazioni possono avere delle dipendenze le une con le altre quindi deve gestire tutte queste dipendenze adesso senza scendere nel tecnico anche perché comunque nemmeno io sono sceso troppo nel tecnico 6 si preannuncia di gestire tutte queste dipendenze ma sarà importante vederla dal vivo perché la storia ci insegna che anche Solana comunque aveva prequisiti del genere ma comunque ci sta mettendo mesi e mesi prima di arrivare effettivamente a una condizione ottimale quindi a volte si blocca a volte non funziona a volte la devono riavviare ci sta perché ha degli obiettivi molto ambiziosi 6 mi sembra che abbia degli obiettivi molto ambiziosi ma tornando alla frase mia iniziale quindi spero che ci siate ancora col discorso non è questo l'unico motivo per il quale ve ne parlo ma ve ne parlo anche perché sto notando che ha un ingente riscontro mediatico ed è una blockchain su Cosmos che nemmeno è partita un po' come Sui un po' come Aptos cioè solo che Sui e Aptos hanno alle spalle dei backers importanti in questo caso non lo so cioè non vi so dire effettivamente se ci sono dei backers importanti perché sul sito ufficiale non vengono riportati ve lo faccio vedere il sito ufficiale non riporta i backers quindi o non li ho trovati io ok o comunque non ci sono backers pubblici però vi devo dire la verità io ho veramente notato che su Twitter almeno se ne parla molto e quindi secondo me è una di quelle blockchain da tenere monitorato poi non vuol dire che uno debba investirci anche perché ripeto non l'hanno neanche lanciata in mainnet ma semplicemente che sarà interessante vedere quando esce come esce quali progetti lanceranno su di esso che tipo di progetti e analizzare anche quelli d'accordo quindi era importante secondo me parlarvene qui ora avevo notato ancora prima prima una domanda sulla Binance Card quindi me la vado a riprendere dunque eccola qui domanda al fine di stabilire il livello di cashback della carta Binance contano anche i BNB tenuti in earn o in stake sulla piattaforma sicuramente il vault sì poi tipo quello lo staking bloccato non te lo so dire con certezza se magari qualcuno ha info maggiori le può dire ma guarda in realtà credo che da qualche parte nella documentazione di Binance e della Binance Card ci sia proprio scritto con maggiore dettaglio tutti i luoghi in cui puoi avere i BNB per essere conteggiati nella Binance Card nel livello diciamo ok un'altra notizia dell'ultimo minuto Pancake ha il suo bridge andiamola a vedere ah l'avevo vista questa l'avevo vista però andiamola comunque a vedere bello interessante quindi uno può scegliere la moneta ah esatto infatti mi ricordava che sfruttava Stargate quindi interessante bello 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 quindi è un bridge diciamo integrato ma che in realtà powered by Stargate figo 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 eh ma Pancake comunque è uno di quei protocolli che non muore mai cioè magari se ne parla solo poco ma se ne parla magari se ne parla poco ma lui c'è rimane sempre il primo sulla BSC ok non molla mai ovviamente lì stato su Binance qualche giorno fa STG beh mica scemi quelli di Binance no mica scemi quelli di Binance va buono boh ragazzi c'era ancora un'ultima cosa che volevo parlarvi per cui vado e parto layer 0 era nella lista di protocolli finanziati da qualche big company eh oddio eh guarda non lo so ma non vedo non ci vedo nulla di male per cui ci potrebbe stare anzi ok hai visto il video hai visto di Akala grazie mille per la domanda l'avevo vista anche prima ma poi l'ho persa e invece secondo me era importante parlarne allora sì l'ho visto me lo sono recuperato in questi giorni l'avevo letta velocissimamente quando era accaduta ma proprio scorrendo un po' su twitter quindi non l'ho poi approfondita e e ho visto effettivamente che è accaduto un problema piuttosto grave cioè che hanno avuto un problema di non so che tipo nel particolare ma quello che è accaduto è che hanno mintato tipo 3 miliardi di AUSD senza ovviamente collaterale di sottofondo e quindi al momento la loro stable coin vale ah no mi ricordavo che voleva 0,70 addirittura ok vedete che uscilla però fortemente adesso è tornata sugli 0,93 0,94 però appunto mi ricordavo che era stata anche a 0,75 se apriamo il grafico a 14 giorni aveva fatto una botta a 0 non so se è coingeco che forse non ha i dati super aggiornati per AUSD perché mi sembrano strani questi balzi verticali ok cioè mi sembra un po' strano questo oscillamento di del prezzo ad ogni modo era accaduto che sono riusciti a mintare tipo 3 miliardi 3 miliardi e mezzo di AUSD e poi hanno incominciato a farci qualche cosa tipo li hanno venduti per dei dot li hanno portati su altre parachain e il problema è grave perché comunque a mio avviso vuol dire aver sottovalutato uno degli aspetti più importanti cioè la protezione del pack di AUSD soprattutto su un modello che è già testato vero è che su Akala l'avranno scritta in Rust e quindi non hanno utilizzato gli stessi smart contract lo stesso codice di di MakerDAO però sicuramente è un brutto segno cioè evitabile purtroppo purtroppo è accaduto per quanto riguarda coloro che io penso che quelli maggiormente maggiormente colpiti a parte chi vabbè possedeva AUSD che però se è già tornata a 0,94 vuol dire che non so per quale motivo sta riuscendo a recuperare molto bene se non sbaglio è rimasto un po' colpito chi aveva tipo liquidità proprio da LP tipo AUSD dot queste qui proprio perché sono state usate quelle pool per andare a vendere questi AUSD mintati però anche qui l'approfondirò sicuramente meglio nei prossimi giorni la faccenda perché non ho letto effettivamente tutto un medium di post mortem dove spiegano meglio cosa stanno facendo sicuramente stanno gestendo la situazione abbastanza bene cioè il team dà informazioni ho visto che sono riusciti a bloccare la cena abbastanza velocemente e e di conseguenza questo gli ha dato un vantaggio ah fanno un reverto di tutto? ah non lo sapevo non lo sapevo quindi ci aggiorniamo dai ci aggiorniamo su questo perché è bene vedersela con maggiore dettaglio dato che comunque è un qualcosa di piuttosto importante e anche il reverto sarebbe un'operazione importante ad ogni modo un brutto segno è spiacevole ci sono varie proposas ok vuol dire che non hanno ancora scelto definitivamente va bene va bene comunque ci aggiorneremo anche su questo quindi magari quando effettivamente si saprà con maggiore decisione con maggiore sicurezza ciò che verrà fatto ne parleremo d'accordo senza ombra del dubbio buono ragazzi in realtà le news importanti ve le ho dette tutte mi ero segnato poi anche questa quindi già che ci sono ve la dico la pool su curve dove c'è euro c è nata la vedete qui è la 3 usd euro c ok quindi abbiamo le classiche da usd c usd t e poi c'è anche euro c e proprio per far vedere che oggi l'euro è sceso sotto la parità possiamo vedere che se noi andiamo a vendere un euro c per ad esempio usd c vedete che da un euro andremo a ottenere 0,997 usd c insomma con un euro ci danno meno dollari rispetto a prima ok e a tra l'altro a tra l'altro tra l'altro è stata super incentivata cioè è super incentivata questa pool perché guardate che PY ha a partire dal 5.3% fino a un 13.4% se si ha un numero sufficienti di CRV in staking quindi di V e CRV perché sapete che la PR fa un per 2,5 infatti se voi fate 5.3 per 2,5 ottenete proprio 13,47 quindi è stata un bel po' incentivata è stata veramente incentivata molto bene e tant'è che avevo letto una domanda del tipo ma cioè com'è possibile che sia stata subito incentivata così bene si vede che comunque ci sono parecchi interessi dietro e l'hanno spinta un po' per creare un po' di liquidità al momento non ce n'era tantissima vediamo al momento 3 milioni di liquidità quindi molto poco magari aggiorno di nuovo ma non credo che in due ore cambi qualcosa cito adesso tipo 25 milioni 3 milioni quindi è rimasto abbastanza abbastanza invariata stable.fish cos'è? apriamolo fidandosi ciecamente il link ah ma sai che stable.fish non lo conoscevo figo è una sorta di è una sorta di come si chiamava di coindix magari più completo o per optimism e arbitrum figo figo bello tra l'altro adesso appunto tipo questo saddle non lo conosco nemmeno quindi dovrò andarlo mi dovrò mi dovrò riaggiornare mi sto aggiornando velocemente in questi giorni ma sicuramente qualcosa ancora me la sono persa tipo questo saddle qui non so cosa sia ah meglio meglio di coindix perché simulano mettendo dei cppini in tutte le farm ah ok ok quindi hanno dati proprio più accurati rispetto a coindix e saddle è un bridge perfetto numero uno bellissimo questo sito beh tanto è già in chat quindi non lo devo neanche condividere perfetto perfetto buono beh allora dato che avevo visto la domanda se ci sono un po' di farm interessanti su arbitrum direi che qui su stablefish le trovi tutte forse si può anche mettere un filtro si filtro optimism le trovi tutte madonna 40% su quella di kidao veramente veramente tanto il tbl è piccolino va buono va buono bella mi piace mi piace buono ragazzi in realtà per oggi secondo me ci siamo tanto noi ci vediamo subito ci rivedremo immediatamente domani ok e magari domani andiamo a vedere qualcosa che sul quale oggi non ero esattamente sul pezzo e non diluitemi please no ragazzi esatto bisogna bisogna pagare bisogna pagare una quota per poter entrare nelle stesse pool in cui c'è YFARMER allora giusto calendario settimanale al momento quindi per tutte queste settimane almeno per questa e la prossima rimane come prima quindi anche domani facciamo una live anche giovedì e poi invece venerdì video cambierà un po' a settembre ma ve ne parlerò ve ne parlerò meglio nel dettaglio ok la prossima settimana o quella dopo ancora comunque a settembre va bene ragazzi io vi saluto vi ringrazio davvero tanto per essere rimasti fino a qui sono contento che siamo ripartiti sono molto molto carico anche perché a settembre partirà tra virgolette l'esperimento di portare quella live sull'analisi magari di qualche progetto con un po' di analisi on change sempre in live quindi ve l'avevo annunciato forse poco prima che partissi per le vacanze e effettivamente lo andremo a fare partendo da settembre bella ragazzi buona serata a tutti ok e ci vediamo domani ciao ragazzi un bacio